Si conoscono? Forse sì, forse no. Certo è che l'arrivo in Calabria di Alfredo Dattorre, neocommissario regionale del PD dopo il ritorno a Roma del senatore Musi, ha aperto un dibattito piuttosto aspro. Il governatore della Calabria Scopelliti ha dichiarato di non aver mai conosciuto il professor Dattorre. Un modo per non considerare l'analisi dell'intellettuale, un modo per non considerare l'analisi dell'intellettuale sulla situazione calabrese oppure il monito dello stesso rivolto proprio a Scopelliti a rispettare alcune istituzioni? Probabile, ma resta naturalmente il dovere di capire cosa sia accaduto o meglio cosa stia accadendo. Un'idea pare se la sia fatta Sandro Principe, capogruppo in Consiglio regionale dei Democrat, a detta del quale è una buona notizia che Scopelliti non conosca Dattorre. Chiaramente una chiave di lettura ironica la sua. Secondo Mario Oliverio, la reazione di Scopelliti è segno di nervosismo. Al di là di tutto, però, lo chiariamo anche noi, restano i problemi dei calabresi ai quali destra, sinistra e centro devono dare, a seconda dei tempi e delle occasioni che hanno e che avranno, risposte. C'è comunque in questo contesto un'altra certezza. Il raggiungimento del livello di scontro tra quella che è l'attuale maggioranza che governa la regione Calabria e una parte di opposizione, il PD appunto, che dal canto suo sembra stia ritrovando un filo conduttore comune nell'azione politica da mettere in campo, che sia in qualche modo il preludio ad una fine, futura certamente, del commissariamento? Chissà, si vedrà. A proposito di PD, c'è fermento a Reggio Calabria, un fermento che ha della positività perché sembra dare ulteriore unità ai democrat reggini. Il passaggio di Massimo Canale nel partito, notizia che non sorprende ma che ha una sua indubbia valenza. Il passaggio sarà ufficializzato domani in una conferenza stampa.